ciao a tutti i ragazzi bentornati sul canale oggi siamo qui per un video un po' diverso un po' inusuale per il mio canale perché sapete che io non faccio video su una singola uscita su un singolo fumetto non faccio video monografici ma faccio gli acquisti fumettosi dove ci sono tutti gli acquisti della settimana ma ma l'evento di oggi richiede l'eccezione l'evento di oggi richiede le eccezioni perché è uscito il primo numero della ristampa anastatica delle strisce di tex un evento che voglio celebrare con voi intanto ragazzi do a tutti quanti il benvenuto benvenuti a tutti i iscritti benvenuti a tutti i nuovi iscritti perché siamo in 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 aspettato perché siamo in road to 7000 ragazzi benvenuti a tutti i nuovi iscritti qui sotto qui sotto qui sotto trovate tutti i miei social perché sono su instagram su tiktok ma soprattutto su twitch seguitemi su twitch raggiunti 100 seguitori perché follower io sono italiano non voglio di follower voglio dire seguitori in seguito in seguitori i cento inseguitori sorteggerò tra i 100 102 quanti saranno iscritti in quel momento a twitch cioè che mi seguiranno su twitch il numero 421 di dylan dog in bundle con il numero 1 a colori sembrano un po ringo people e e quindi lo regalerò a uno di coloro che mi seguono su twitch quindi seguitemi su twitch trovate tutti i link qui sotto come trovate anche il link dello shop di otto bit adesso inverno uno si mette a leggere il suo fumetto preferito una bella cioccolata calda che è più buona fidate più buona dentro dentro la tazza di otto bit soprattutto se intanto vestite anche la felpa di otto bit insomma ragazzi trovate il link qui sotto e quindi dicevo dicevo io non faccio video monografici non faccio video su un singolo uscita su un singolo fumetto perché non faccio recensioni ma ma questo è un evento ragazzi la prima ristampa anastatica di tutte le strisce di tex beh ragazzi è un evento è un evento e dietro vi faccio vedere la foto perché c'è anche il raccoglitore dal prossimo dalla prossima settimana dal 18 troverete anche il raccoglitore insieme alla seconda uscita e quindi è niente quindi quindi spero che il raccoglitore sia secondo me sarà un raccoglitore di quelli anelli normalissimo spacciato per mega raccoglitore non lo so però spero che contenga che ne so 20 30 strisce dentro il raccoglitore cioè che non ne contenga tipo tre quattro sei che poi tocca 10 raccoglitori a 9 a 10 euro luna se no la spesa diventa veramente veramente incredibile non perdere tutte le uscite settimanali in edicola ogni martedì dal 18 ottobre chiedi in edicola i raccoglitori esclusivi per collezionare tutte le strisce a soli 9 99 non 10 ma 9 99 allora io direi intanto di andare ad aprirlo volevo ricordare con una storia a striscia inedita mi sembra nelle prime sei uscite nelle prime sei uscite ci sarà una storia di bure di burattini inedita quindi infatti molti dicono prenderò solo le prime sei uscite per avere la storia inedita e che cosa faccio io e questa è una bella domanda non lo so non lo so intanto vado avanti e mi lascerò vado dove mi porta il cuore allora che cosa abbiamo qui qui abbiamo questo faccio madonna con il piano dell'opera con tutte le 66 uscite eccole qua perché sono intanto vi faccio vedere eccola qui guardate che bella guardate che bello questo con la prima vignetta proprio di tex la prima striscia per tutti i diavoli che mi siano ancora le costole a eccoli vengono dalla prateria e non è lo sceriffo con i suoi scagnozzi in una delle gole selvagge del rainbow canyon tex wheeler sta bivaccando dopo la lunga galoppata che lo ha portato oltre i confini del texas quando improvvisamente alcuni spari e che già hanno hanno molta distanza questa è storia ragazzi questa è storia e quindi trovate qui l'elenco di tutte le uscite poi invece c'è il fascicolo eccolo qua adesso poi vi faccio vedere tutto dall'alto per bene eccomi finalmente tex 30 15 lire la la tesa riscoperta insomma praticamente tra l'altro sono anche tutte in versione originale non censurata quindi tanta tanta roba adesso andiamo ad aprire andiamo 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 ad aprire questo ok il ponte minato ok carine poi abbiamo il totem misterioso e la roccia parlante quindi 12 a ok questa è la striscia questo lo buttiamo quindi serie inedita silver star numero 1 di 6 questa è la striscia inedita ma adesso vi faccio vedere vediamo tutto per bene dall'alto i disegni sono di torti di rodolfo torti grandissimo rodolfo torti l'abbiamo trovate anche il tre chiacchiere sul canale con rodolfo torti bellissima la storia strisce e poi le prime due strisce in ristampa anastatica quindi esattamente come uscirono 73 anni fa del ranger allora adesso gli diamo un'occhiata e poi torniamo a chiudere il video allora eccoci qui ragazzi per un close up eccolo qua qui potete vedere le prime 44 uscite che continuano di qua fino ad arrivare alle 66 per completare la serie qui vi faccio ridare un'occhiata a questa qui nella la prima striscia in versione gigante molto 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 bella poi vi faccio vedere il fascicolo appunto che allegata a questa iniziativa la stampa anastatica eccetera eccetera e abbiamo e abbiamo eccolo qua allora già luigi bonelli ne sarebbe orgoglioso l'avventura fatta a strisce di graziano frediani ragazzi eccomi finalmente tex poi abbiamo l'albo più ricco al prezzo più povero 36 pagine 15 lire cinema di carta classico nuova serie audace l'impresa di occhio di occhio cupo calep e poi qui dopo 60 anni di obbligo finalmente potete leggere o rileggere le primissime storie di tex con i veri dialoghi scritti da già luigi bene ritrovare i disegni immacolati di aurelio da leppini perché sono state modificate magari nelle varie ristampe e qui invece che si arriva a prendere ma qui si può essere una persona ha deciso di spiegare a fare scarpoli consigliato a porvi velocemente rimedi sono gli abili succinti e quindi praticamente si sono stati un po censurati esatto e quindi insomma vedete c'era una coscia di troppo una gamba scoperta di troppo insomma siamo nel 1948 quindi si poteva stare e qui le potete ritrovare esattamente come furono pensate all'epoca questa nella prossima uscita quindi troviamo la seconda delle sei strisce inedite e le due la 34 di quelle di quelle appunto classiche qui diamo un'occhiata aspettate che gli diamo un'avvicinata eccola qui eccola qui il ponte minato vedere che c'è scritto serie inedita silvestar numero uno di sei e qui abbiamo burattini torti il ponte minato eccola qui vi faccio dare un'occhiata giusto per vedere gli splendidi disegni di rodolfo torti grandissimo disegnatore grandissimo spettacolo e insomma niente questa è la striscia inedita la prima di sei la prima di sei eccolo qua il seguito sul prossimo numero morte nell'abisso guardare in bella questa col treno guardare anche questa eccolo qua e questo è continua qui se iniziare inedita silvestar numero due di sei bella bella questa qui inedita ci piace veramente veramente tanto e dopo di che passiamo a quella storica perché questa è la prima striscia in assoluto di tex eccola qui abbiamo visto in grande e qui è l'angolo dello sport vedete quindi anche tutti gli inserti tutte le pubblica tutto è stato ottenuto tutto esattamente uguale nella bellezza di anni e anni e anni fa eccolo qua leggete frisco bill la radura delle orchidee racconto di franco baglioni vedete qui a destra e quindi guardate anche il dietro è esattamente nessuno non sarebbe anastatica con l'ana del tex numero 1 30 settembre 1948 eccolo qua bello 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 si rivolta in grado nel tempo vi faccio vedere anche la seconda ecco le qua poi queste le conosciamo le abbiamo visto in 10 mila di stampe però insomma fa emozione di vedere la striscia originale esattamente uguale a come era nel 1948 devo dire che fa abbastanza abbastanza i sentimenti per un texiano sono abbastanza forti insomma eccole qua le prime tre uscite le prime tre strisce di questa iniziativa a mio parere molto 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 interessante ok ragazzi tanta tanta roba che spettacolo devo dire un'emozione insomma è un'emozione trovarsi in mano le strisce allora io non sono un collezionista un purista io ho tutto quello che è uscito di tex ma non sono un purista tutto quello che è uscito la terza la quarta ristampa c'è per esempio quelli dedicoli ho solo i primi di quelli di repubblica colori grandi ho solo i primi dieci poi ho quella di 30 volumi cartonati sempre di repubblica perché insomma rifarla tutta colori grandi così adesso sto facendo classic insomma diciamo che sono un texiano però io per esempio di tex i primi ho il tutto tex che è quelli che ho comprato quando ero piccolo non sono andato a ricomprare tutti gli originali di tex capito cioè non sono un purista di tex un collezionista 100 per cento di tex purista quindi andare a spendere un capitale per recuperare tutte le strisce originali di tex non lo avrei mai fatto soprattutto poi magari in delle condizioni o spendi un capitale o ce l'hai in delle condizioni che poi non le puoi neanche toccare perché sennò ti si distruggono quindi questo è un modo per avere le strisce originali di tex esattamente come quelle originali su una carta moderna con una stampa moderna con una tenuta moderna a un prezzo ragionevole e completamente nuove nuove perfette intonze quindi secondo me è una grandissima cosa e a me questa cosa piace molto penso che potrei farla tutta vediamo com'è il raccoglitore se non hanno fatto una sozzata con il raccoglitore allora potrebbe essere una serie da fare tutta e ditemi voi che cosa fate se l'avete comprata se vi piace quali sono le critiche quali sono diciamo quali sono i pro e quali sono i contro secondo voi di questa serie attendo ansioso i vostri commenti condividete mettete mi piace iscrivetevi fate tutto ciò che il vostro cuore desidera ma soprattutto ricordate sempre che io sono Manuel questo è 8 bit e siete sul canale più nerd di youtube